Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida visita la caccia della Pantera in Fortnite. Quindi si tratta di una sfida della settimana 3 per la stagione 4 del capitolo 2. La Pantera è praticamente questa. Sicuramente l'avrete visitata almeno una volta da quando è stata aggiunta la mappa. Si trova qui dove c'è Brughiere Brumose. Qui c'è anche sulla mappa l'icona, il disegno. Quindi non potete sbagliarvi. Tutto quello che dovete fare è semplicemente atterrare nei pressi della Pantera. Non potete sbagliarvi, si vede già dalla mappa, come potete vedere. Ecco, adesso la Pantera è scomparsa e riapparsa. Atterriamo qua e voilà, la sfida è completata. Grazie. Grazie a tutti.